Adesso vogliamo collegarci con la nostra voce della scienza, perché collegato con noi, spero, il direttore delle scienze di National Geographic, Marco Cattaneo, lo possiamo vedere, riusciamo a vederlo? Eccolo, perché mi deve portare brevemente due notizie flash nella notte che arrivano dalla scienza. La prima la possiamo vedere, è una scoperta che tutti aspettiamo, perché l'altro giorno il Corriere della Sera titolava Tracce di vita extraterrestre per gli scienziati è solo una questione di tempo. Allora, davvero troveremo gli alieni? E somiglieranno a Saverio Raimondo? La vera domanda è quella. Prego, direttore. Non abbiamo proprio idea di che cosa saranno gli alieni. Stiamo cercando nel Sistema Solare con scarsa fortuna, devo dire, per adesso. Su Marte non abbiamo trevoato nulla, stiamo mandando delle missioni sui satelliti di Giove, dove ci sarebbero degli oceani che potrebbero ospitare vita, ma quello che ci aspettiamo di trovare lì non sono omini verdi, ma sono forse qualcosa di simile ai batteri. Anzi, addirittura c'è un bellissimo libro, è uscito un paio di anni fa, che si intitola Come costruire un alieno, perché in realtà non sappiamo proprio cosa troviamo. Non è detto che altrove la vita si sia evoluta con gli acidi nucleici come il DNA e il RNA, esattamente come sulla Terra. Per cui può darsi anche che incontriamo gli alieni e non li riconosciamo come tali. Ecco, però sicuramente non saranno etilo, omino verde che ci aspetteremmo. E dimmi quando però, quando li incontreremo? Cioè noi saremo vivi? Quando non si sa, intanto bisogna aspettare che arrivino queste sonde sui satelliti di Giove e di Saturno e probabilmente ci vuole ancora qualche anno. E poi per essere sicuri che siano tracce reali di vita e di vita vera, insomma dei batteri, qualcosa del genere, ci vogliono sicuramente degli anni. Speriamo, perché anche il fatto che saremo vivi vuol dire che li troviamo abbastanza presto, come storia dell'umanità, facciamo presto a tutto sommato. Senti, grazie mille. Nelle prossime settimane aspetto altre notizie scoperte sensazionali da te. Adesso ci fermiamo ancora un attimo e poi torniamo per una buona notte speciale.